Includere nel territorio gli armati collocati per strada dai fornitori di servizi, trasformandoli in piccole opere d'arte, abbellendo così un territorio anziché deturparlo come avviene attualmente. Questo è un evento realizzato nell'ambito dell'Inclusion Week che annualmente, ormai da 4 anni, viene organizzata in team. Quindi sono iniziative proposte e organizzate dai dipendenti per dimostrare che l'inclusione porta ad un valore. Questo in generale nel senso diciamo anche più lato. Molti degli eventi sono relativi alla disabilità, all'etnia, all'orientamento sessuale, alla leadership femminile, all'aging, alla religione. Ecco, però possono riguardare qualsiasi aspetto di questa tematica e quella degli armati è una forma particolare di inclusione che è comunque rilevante nel contesto sia della nostra azienda sia socialmente. L'obiettivo dell'evento è quello di contribuire affinché alcuni dei molteplici armadi, collocati un po' ovunque nel territorio nazionale, dai diversi fornitori di servizi, quali di telecomunicazioni, di gas, di luce, ma ce ne sono anche altri, possano costituire un'occasione per abbellire il territorio. Un secondo obiettivo è quello di sensibilizzare sia l'azienda, i suoi dipendenti, sia le amministrazioni e i cittadini, in quanto il numero di armadi collocati sul territorio è in continua crescita, ce ne accorgiamo tutti i giorni, e lo sarà ancora di più con la programmata chiusura di molte centrali. Quindi ho cercato di coinvolgere per l'evento realtà del territorio per confrontarsi sul problema insieme ai colleghi interessati alla ricerca di idee e di possibili soluzioni che possono portare a iniziative che durino nel tempo, capaci perciò di portare sempre a nuove realizzazioni concrete. Ecco qui c'è un elenco delle persone che hanno partecipato e che hanno potuto dare appunto un contributo notevole alla discussione. L'agenda dell'evento prevedeva la presentazione di queste slide che cercano in qualche maniera di analizzare il problema e di dare possibili soluzioni, poi di sviluppare una discussione che convincesse tutti i partecipanti e che portasse ad un confronto, una condivisione degli obiettivi, a suggerimenti e nuove idee e a evidenziare anche nuove criticità e disigenze in genere. L'ultima slide che vi proporrò poi sarà un invito a partecipare a un'indagine online dove non è necessario rispondere a tutte le domande, dove si può fare in modo completamente anonimo se uno lo desidera. I risultati di questa indagine potranno sicuramente tornare utili per sapere come la gente, oltre che i partecipanti, la pensano e dare quindi concretezza alle ipotesi tracciate. Cercherò poi di propicizzare i risultati e le diverse ipotesi all'interno anche della mia azienda, rendendo disponibile poi pubblicamente a chi lo desidera, ai partecipanti dell'evento, i risultati. Iniziamo col dire che per piccoli o grandi che siano, incassati o meno in un muro, tutti gli armadi deturpano di fatto il paesaggio e le architetture presenti. Siamo ormai talmente abituati a vederli che quasi non notiamo più quanto degradino questo territorio, e neppure quanti siano, il loro numero cresce sempre più e crescerà ancora di più nel prossimo futuro, anche con la dismissione di alcune centrali, ma la problematica è assai complessa in quanto coinvolge non solo più fornitori di servizi, ma anche solamente guardando all'ambito delle telecomunicazioni, diversi provider. Ad esempio sulla sinistra notiamo due armadi classici della fibra di telecom, ma accanto troviamo altri armadi che sono appunto i collegamenti che sono propri di altri distributori di servizi che sono in qualche maniera collegati poi alla rete d'accesso Telecom Italia, DIM. Per cui è un qualcosa che coinvolge diverse realtà e deve essere in qualche maniera affrontato. Notiamo poi come tutti questi armadi abbiano forme, talvolta anche colori leggermente differenti, e come anche questo colore grigio tutto sommato non aiuti a renderli particolarmente accettabili in un certo territorio. In altre realtà, in altre nazioni, ad esempio si è fatta una scelta diversa relativamente al colore, ad esempio il verde, a mio parere, già in generale, al di là del caso specifico, può essere un colore che si adatta meglio in molti contesti, piuttosto che quello scelto attualmente per gli armadi in Italia. Questa foto mostra come talvolta basti veramente poco per trasformare un oggetto avvulso dal contesto in qualcosa di perlomeno simpatico e capace di suscitare emozioni in chi lo osserva. E questo si può dire in generale, spesso per graffiti, per le street arti in generale, ecco, bastano poche linee per dare già un senso a un qualche cosa che stonerebbe molto di più se non ci fossero questi disegni. Vi chiedo di osservare alcune foto di armadi, il prima e il dopo aver applicato loro una forma artistica che ho simbolato tramite fotoritocco, ma ovviamente l'effetto sarebbe il medesimo se fosse veramente realizzata. Cerco poi di immaginare come un territorio a cui si è affezionato potrebbe cambiare radicalmente il meglio applicando un qualcosa di analogo. Ecco, questi sono gli armadi che abbiamo già visto prima, ecco, basterebbe appunto applicare un qualche forma di trompe l'oeil per modificare radicalmente la sua estetica. Qui un po' di nuvole, un po' di immagini, ecco, questo è un armadio proprio davanti a quello che era l'Oxelt. Ecco, come ultimo esempio, ve ne propongo uno che vuole mettere in evidenza come la valorizzazione di un armadio potrebbe comprendere anche, oltre che realizzazioni grafiche, anche, diciamo, l'inserimento di elementi reali, quali potrebbe essere una cassetta per effettuare il book sharing oppure mettendolo adiacente a panchine, realizzando appunto delle aree, diciamo, più vivibili e disprosurvasse meno all'interno del territorio in cui è stato collocato, dando così un connotato ancora più socialmente utile all'iniziativa. Ecco, in questo caso sono solamente immagini, ma è evidente che si potrebbe aggiungere un cassonetto dove i libri contenuti sono reali, quindi poter effettuare un book sharing all'interno di un quartiere. A conferma di come la street art potrebbe sicuramente tornare utile, come un seriore esempio, ho effettuato un fotomontaggio utilizzando una foto che avevo fatto da uno dei tanti murales del Parco d'Ora di Torino. Ora quel murales non c'è più, in quanto sovrapposto ormai da molteplici altri dipinti, ma questo è il ciclo di vita normale della street art che la rende, secondo me, ancora più speciale. Ecco, bastano, appunto, magari associati a dei dipinti, delle frasi, che possono dare un senso quasi, diciamo, filosofico alla descrizione. Talvolta, poi, mi capita di leggere sui muri frasi che fanno riflettere. Alcune forme di street art possono essere, secondo me, infatti, assimilabili a una sorta di street philosophy psychology. Alcune fanno anche solo sorridere, ma sono ugualmente speciali. Nel seguito vi farò vedere alcune foto che ho fatto ad alcune di queste frasi, altre ce ne sono sul mio blog, ed anche questa forma di arte potrebbe trovare una sua collocazione sugli armadi, con finalità sociali, ad esempio di educazione civica. Iniziative già viste? Sicuramente non è nulla di nuovo questa idea di utilizzare l'arte per abbellire un territorio, per abbellire oggetti, e anche armadi in particolare. Tuttavia, le iniziative di cui sono a conoscenza sono relative a piccole realtà paesane, o a singole città, e sono state realizzate solo per un limitato periodo temporale, interessando quindi un numero troppo esiguo di armadi per raggiungere un qualsivoglio obiettivo. Diverso sarebbe il discorso se l'iniziativa fosse adottata da una o più ditte di distribuzione di servizi, a livello nazionale, e riuscisse a trovare sinergie con iniziative locali, tale da potersi sostenere nel tempo anche da un punto di vista economico. Come impone ogni operazione efficace, sia di marketing sia sociale, si deve raggiungere una massa critica. È inutile perciò avere pochissimi armadi abbelliti dispersi in modo sporadico su un vasto territorio. Non hanno alcuna visibilità, qualsiasi sia l'obiettivo, questo è sicuramente, secondo me, mancato. Solo dalla divisione di obiettivi troppi ottori, si può avere che il loro numero cresca sempre più nel tempo, aumentandone quindi la visibilità, rendendo quindi l'iniziativa economicamente più sostenibile. Senza trovare queste opportune sinergie con iniziative locali, i risultati sono quelli e quelli che si vedono attualmente, dalle poche iniziative che posso trovare anche ricercatole su internet. Facendo una passeggiata in bici nel centro di Torino, mi è stato assai facile fotografare alcuni armadi collocati anche in luoghi storici della mia città. Senza dubbio la loro presenza non può che farci storgere il naso e la bocca, se ancora abbiamo la sensibilità di notarli. Questo è uno in piazza Castello, uno in piazza Solferino, vicino, insomma, in piazza Sabotino in realtà, l'altro nuovamente in piazza Castello. Molto spesso poi alcuni di questi armadi sono raggruppati, occupando ampie aree, come nel caso degli armadi relative alle linee telefoniche, in fibra, perché ci sono, abbiamo visto, anche gli armadi degli altri distributori, e in più ci sono magari delle cassette per l'impianto elettrico, per la loro alimentazione, per poi non parlare di quelli aperti, oltre che sporchi, ma questo è un altro discorso. Nel caso dell'artofonia, essendo poi spesso presenti in un medesimo territorio, più operatori, si può anche verificare una situazione come quella mostrata nell'immagine seguente che ho trovato online, ma che si può trovare anche agevolmente passeggiando per strada, e cui coesistono in un medesimo territorio più armadi ciascuno relativi allo specifico operatore telefono. Cosa si può fare dunque per migliorare l'attuale situazione? Che, come abbiamo detto, di anno in anno peggiora sempre più, e peggiorerà sempre più anche nei prossimi anni. Ecco, talvolta ho visto apparati di rete e sapientemente mimetizzati quando collocati su architetture storiche. Si potrebbe fare di più anche in questo senso, ad esempio riproducendo in modo quasi obbligatorio sull'armadio gli stessi mattoni del muro retrostante o pitturandolo col medesimo colore. Questo è il caso, ad esempio, di quell'armadio di Piazza Castello, dove vi mostrerò come sarebbe veramente agevole e facile migliorarne l'estetica. Talvolta si vedono degli enormi pannelli di copertura che riproducono la facciata di un palazzo durante la sua ristrutturazione, oppure buri finti per coprire aree in edificazione. Mi chiedo, è possibile che si riescono a trovare le risorse per far ciò e non si riesca ad effettuare un'operazione analoga per oggetti di ben più limitate dimensioni e che per di più rimangono nel tempo, quindi non è un qualcosa di temporaneo. Ecco, questo, ad esempio, è l'applicazione di una duplicazione, diciamo, dello sfondo. Qui siamo in Corso Bolzano, dove è stato messo questo pannello che riproduce un muro che in realtà non c'è. Qui, Palazzo Madama, attualmente in ristrutturazione, ecco, c'è questo enorme pannello che sicuramente nasconde le brutture dovute all'impalcatura. Questa poi è ancora una delle istruzioni che è stata trovata in Piazza Castello per migliorare l'estetica di questi dissuasori di cemento. Si tratta, quello della mimetizzazione, di un modo applicato in casi sporadici. Quanto spesso è applicabile anche in casi sporadici, quanto spesso le dimensioni degli armadi, il loro posizionamento, magari in mezzo a un marciapiede, sono tali che risulta difficile e improbabile renderle quasi invisibili alla vista. Incassarli nei muri o nel selciato potrebbe essere una soluzione talvolta percorribile, anche se, non so, incassarli in un selciato ha delle implicazioni notevoli sia come raggiungibilità, sia anche come difficoltà di interventi da parte del personale che deve avere particolari qualifiche per farlo. che dovrebbe avere particolari qualifiche per farlo. Comunque, seppure gli sportelli metallici non siano certo esteticamente belli, in tal modo non si ruberebbe spazio a marciapiedi e piazze, quindi sarebbe un... Se la soluzione di mimetizzarli o incassarli non è percorribile, come spesso purtroppo accade, per diversi motivi, sicuramente risulta però possibile renderli almeno esteticamente più piacevoli, ad esempio personalizzandoli con pittura appropriata, al contesto ed il più possibili. Ho visto, proprio poco tempo fa, la soluzione adottata in un piccolo paese di montagna, un so, che è riuscito a trasformare in piccole opere d'arte tutti gli elementi che stonavano col suo territorio, quindi dagli armadi, dei contatori del gas, alle buche delle lettere, calandoli sulla realtà di quel territorio montano. In questo modo non solo ha abbellito il paese, ma è anche accresciuto un numero dei turisti che lo visitano proprio per ammirare quei suoi murales e dipinti. Ecco, sicuramente questo non è il primo ed unico paese al mondo a fare uso della pittura per migliorare l'estetica del suo paesaggio, ma penso renda bene l'idea di cosa si possa fare, in tal senso, anche con piccole iniziative locali, con bassi investimenti, alla portata di un comune di poche anime. Certo, è molto più facile realizzare un'operazione del genere in un piccolo paese piuttosto che in una grande città oppure tanto più a livello nazionale. Però, ecco, queste sono alcune delle realizzazioni che avevo fotografato in cui si vede come, indubbiamente, quello che era un cassonetto del gas viene trasformato in qualche cosa di ben inserito nel territorio. E si può ammirare agevolmente. Allora, nel caso del paese di Ussò, i dipinti hanno voluto calarsi ovviamente nella realtà di quel territorio montano. In un contesto cittadino, l'originalità del dipinto potrebbe spaziare dall'arte astratta, a richiamo di oggetti d'arte, architetture caratteristiche di quel territorio e affrontare tematiche sociali specifiche. A Milano, ad esempio, nell'anno dell'Expo, nel 2015, c'è stata un'iniziativa promossa da alcune fondazioni nell'ambito del progetto di Aredo Urbano, Urban Art Renaissance, che ha permesso a 50 artisti di realizzare ciascuno tre opere di street art sugli armadi e delle centraline semaforiche presenti nelle città, per un totale di ben 150 dipinti. Si è trattato perciò di un evento rilevante che dimostra come iniziative analoghe possano essere realizzate concretamente anche in una grande città. Notevole è stata rilevanza data poi dai media, da quel progetto di Aredo Urbano, ed è stato realizzato anche un libro illustrato a riguardo, presentato alla Triennale di Milano. Quindi un'iniziativa durata poco nel tempo, ma che ha dato, ancora oggi ho scaricato queste fotografie di riviste, di giornali, anche la mostra che si è poi fatta a seguito da internet, ecco, facciano ancora a distanza di anni averne rilevanza. Ha contribuito a quell'iniziativa incentivare quel turismo, quella forma nuova di turismo che si sta diffondendo soprattutto in questi ultimi anni. Si può vedere un po' avunque in tutte le grandi città come esista un turismo orientato a visitare luoghi in cui siano presenti graffiti e street art, che sono di fatto dei musei a cielo aperto, un po' tutti da scroprire, da fotografare, che attirano perciò anche turisti. per cui ci sono dei tour anche proprio specifici per darle ad ammirare. Qui trovate anche altri link sempre relativi alla città di Milano, ma lo stesso avviene in altre città come la nostra, Torino. Qui vi mostro alcune delle realizzazioni artistiche che mi sono piaciute martinamente, di quelle 150 di cui parlavamo prima, che si possono comunque vedere tutte accedendo alla parte pubblica di uno degli organizzatori di quell'evento. Sono una trentina, ve li faccio scorrere molto velocemente, tanto per darvi un'idea di cosa sia state e quali siano state le realizzazioni realizzate nel giro di pochissimi giorni. i giorni. Ecco. Allora, ecco, questa iniziativa di Milano, seppure abbia coinvolto un numero considerevole di armadi, purtroppo è rimasta limitata nel tempo, non essendo stata agganciata ad iniziative periodiche del territorio, ad esempio con corsi annuali o quant'altro, e persino quei 150 armadi, che sono pur tanti, si perdono in una grande città come Milano, se il loro numero rimane tale, mentre il numero degli armadi continua a crescere sempre più. Inoltre, un altro limite secondo me è quello che è interessato solo gli armadi delle centraline semaforiche. E questa è una limitazione notevole, anche se sicuramente ha semplificato le autorizzazioni forse necessarie. Per di più non ha sfruttato la possibilità di un richiamo di oggetti d'arte o architetture caratteristiche di quel territorio, o affrontato tematiche sociali specifiche, cioè si è lasciato libero arbitrio agli artisti di realizzare, mi sembra, almeno vedendo le realizzazioni, ciò che loro volevano. Ecco, non esiste un legame, un tema conduttore tra le diverse opere realizzate, anche in stili ovviamente differenti perché la libertà artistica deve essere mantenuta, però non c'è un tema conduttore. Ripetendomi, quindi la mia proposta non è di per sé originale, ma se fosse adottata da una più dita di distribuzioni di servizi a livello nazionale, penso veramente potrebbe costituire una forma di valorizzazione di un territorio e sia un valido mezzo pubblicitario originale, sicuramente apprezzato dai cittadini consumatori, oltre che una propaganda diciamo da un punto di vista turistico come abbiamo visto. Non si potrebbero ovviamente abbellire tutte le miriade di armadi esistenti sulle strade d'Italia, ma penso sarebbe agevole selezionare un sottoinsieme più conveniente su cui operare. Ogni città infatti ha zone storicamente più rilevanti, dove questa forma di miglioramento estetico sarebbe davvero auspicabile e costituterebbe anche un'indubbia forma pubblicitaria, essendo in genere queste zone molto frequentate. Ad esempio, pensando a Torino, il quadrilatero romano potrebbe essere una di queste zone, essendo un punto nevralgico della movida cittadina. Per una scelta si potrebbe anche optare per sfruttare percorsi tematici o meno già attualmente proposti dalle guide turistiche e dei pleans forniti dagli uffici di informazioni della città. Gli armadi presenti lungo quei percorsi risultavano ovviamente particolarmente battuti dai turisti e quindi questa potrebbe essere una scelta opportuna. L'iniziativa potrebbe inoltre servire a valorizzare non solo il centro ma alcune zone della periferia se concentrati in modo da richiamare l'attenzione di passanti e turisti. Io ho in mente i murali di Milo nella barriera di Milano che costituiscono uno degli esempi di valorizzazione di un quartiere popolare di Torino. Ecco. Si potrebbe avere un coinvelcimento di artisti di strada che sono sicuramente una fonte di originalità non indifferente e un richiamo anche a livello internazionale come ad esempio è stato in passato nel caso del Parco Michelotti della zona dell'Exol di Torino dove opera artistica erano state eseguite addirittura gratuitamente dai pittori e si possono ancora ammirare attualmente a distanza di anni seppure l'accesso attualmente risulta limitato in quella zona. Il Parco d'Ora poi sempre a Torino è un ulteriore esempio di come la street art possa abbellire un territorio di per sé asettico e come possa richiamare artisti di altre città di altri paesi qui sono alcune foto che ho effettuato ai murales del Parco Michelotti e poi degli ultimi invece questi del Parco d'Ora si potrebbe trovare partnership con iniziative artistiche locali già fermate riducendo così di molti costi di realizzazione dell'iniziativa l'utilizzo di stampe autodesive agevolmente collocabili sugli armadi rispetto ovviamente delle giuste proporzioni dell'armadio potrebbe poi verocizzare l'operazione di collocazione anche se ovviamente un dipinto effettuato direttamente sul supporto ha sicuramente un altro effetto ma anche i costi sarebbero maggiori forse esiste quali sono queste partnership ad esempio nel caso di Torino e di altre città ecco in diverse città italiane esiste il concorso fotografico Italian Photo Marathon che si declina a Torino in Torino a Photo Marathon che si tiene annualmente e coinvolge a centinaia di fotografi che si cimentano su temi assegnati quindi non è a tema libero pur non essendo professionisti i risultati sono degni di nota e gli autori delle immagini sarebbero ben contenti di contribuire ad abilire il loro territorio con l'opera loro anche gratuitamente ecco queste sono alcune foto che io ho fatto a uno dei concorsi di qualche anno fa e queste le centinaia di persone che avevano partecipato quindi qualche cosa di continuo poi nel caso di Torino sempre come esempio si potrebbe trovare una collaborazione con l'iniziativa grafica internazionale Daz e Mole anche questa a cadenza annuale le opere di finalisti vengono esposte attualmente nei pressi della Mona Antonelliana per un breve periodo su cartelloni supportati da un piedestallo metallico che comunque occupa spazio e esteticamente non è il massimo anche se fa la sua funzione ecco molto meglio però sarebbe secondo me rendere più permanente la visibilità di queste opere almeno per un anno e non solo per pochi mesi poche settimane come avviene attualmente stampandole queste opere finaliste magari su un supporto adesivo e collocandole in modo da abbellire gli armadi presenti sempre nei pressi della Mona Antonelliana ecco questi sono alcuni degli esempi di opere ecco che questo è uno degli armadi che si trova proprio lì nella zona si potrebbe coinvolgere direttamente il personale delle ditte che collocano gli armadi su strada tramite un concorso artistico interno ad esempio fotografico di pittura magari tematico e specifico per ciascuna località coinvolta nell'iniziativa con una potenziale sponsorizzazione anche da parte del comune di quel comune di quella regione se gli argomenti e le tematiche affrontate possono essere di interesse sociale alcune ditte hanno già utilizzato iniziative che hanno coinvolto direttamente personale per diversi scopi ad esempio in Telecom Italia è stato realizzato nel 2007 il calendario aziendale proprio utilizzando delle foto scattate dai dipendenti selezionate appunto tramite un concorso interno sempre in Telecom Italia nell'aprile del 2011 c'è stato anche fotografiti un concorso fotografico interno sempre è pensato proprio per selezionare alcune immagini paesaggistiche con cui abbellire alcuni armadi ripartilinea delle principali di città italiane la realizzazione concreta sarebbe stata poi solo l'anno seguente quindi nel marzo del 2012 purtroppo solo 64 sono state le foto selezionate che hanno trovato una collocazione reale in alcune delle maggiori città italiane quindi un numero troppo esiguo per raggiungere un qualsiasi voglia obiettivo seppur si fosse trattata di una valida iniziativa a Torino questi armadi dovebbero o dovevano perché io sinceramente non li ho trovati trovarsi nei pressi di piazza Solferino comunque erano poche decine su migliaia di armadi presenti sul territorio nazionale forse sarebbe stato poi meglio puntare sull'originalità dell'opera suggerendo tematiche specifiche sull'innovazione ad esempio disinteresse sociale e non limitarsi alla forma artistica fotografica ma soprattutto si doveva prevedere una continuità all'iniziativa agganciando magari anche a iniziative locali periodiche prevedendo una partecipazione attiva degli abitanti del territorio contribuendo così anche a migliorare l'immagine del marchio insomma senza trovare l'opportuna sinergia se hai già detto mille volte i risultati sono stati quelli che sono stati ho comunque ancora trovato su youtube alcuni video che pubblicizzano quella comunque valida iniziativa aziendale c'è una presentazione dell'iniziativa in cui parla appunto la responsabile di open access e anche il responsabile delle risorse umane people caring in questo video seppur datato viene chiaramente detto che Telecom gestisce ben 152.000 armadi ripartilinea quindi su tutto il territorio nazionale e questi armadi devono essere gestiti mantenuti bonificati periodicamente oggi ovviamente questi armadi sono molti di più anche di diversa tipologia abbiamo già detto che potrebbero avere un ulteriore incremento anche con la dismissione programmata di diverse centrali della telefonia tradizionale che sono diventate ormai obsolete con l'avvento della fibra e con la distribuzione quindi territoriale di alcune funzionalità che attualmente sono centralizzate potete eventualmente guardare questa presentazione del progetto così come potete vedere anche altri video che sono stati realizzati proprio per le diverse installazioni in alcune città ecco la prima installazione ha avuto luogo a Modena questo è il video relativo la seconda è stata a Napoli la terza ha avuto luogo a Cagliari ecco questi sono gli unici video che ricordano quell'iniziativa di qualche anno fa che comunque è stata importante e significativa durante l'opera di manutenzione di quei 64 armadi interessati dall'iniziativa la foto era stata collocata in pochi secondi in modo molto agevole essendo inserita dall'altro nell'apposita fessura presente nella porta dell'armadio evidentemente quella tipologia di armadio è dotata di uno sportello già pensato per ospitare un eventuale cartellone foto la semplice procedura è ben visibile nei video da cui riporto alcuni screenshot nel seguito ecco importante perciò se si pensa di realizzare poi nuove tipologie di armadi pensare anche a realizzarli in modo tale di permettere loro di ospitare appunto un eventuale cartellone foto così come era stato per questi armadi ripartilinea comunque se la foto fosse stata collocata con un adesivo come attualmente sono le pubblicità si sarebbe raggiunto più o meno lo stesso risultato anche se magari la collocazione sarebbe stata non così agevoli ma magari avrebbe comportato la necessità di avere proprio un tecnico che la realizzasse in quanto per inserire la fotografia era necessario aprire la parte superiore dell'armadio e forse incollandola magari anche dopo anni la foto avrebbe avuto maggiore probabilità di trovarsi ancora sull'armadio ecco qui sono alcuni screenshot in cui si vede come fosse agevole inserire la fotografia si potrebbero coinvolgere le scuole locali e licee artistici in particolari che sicuramente sarebbero felici di aderire a un progetto di riqualificazione urbana magari seguendo tematiche di educazione civica e del cittadino ad esempio nel suo piccolo la scuola media Norberto Bobbio di Torino appeso da anni lungo la ringhiera del suo cortile diversi pannelli di atti realizzati dai ragazzi e tesi ad educare i padroni dei cadi che transitano sul marciapiede antistante l'istituto quindi un'iniziativa valida che ha coinvolto attivamente anche i ragazzi quello del coinvolgimento delle persone secondo me è un punto fondamentale anche per dare uno scopo sociale a iniziative come questa si potrebbero coinvolgere i comuni e le regioni soprattutto se le tematiche rappresentate sono di interesse sociale e civico ad esempio a Torino alcune panchine della città sono state oggetto e fonte di diffusione di iniziative specifiche per l'inclusione contro la violenza alle donne ecco queste sono due delle panchine che ho fotografato in cui la tematica affrontata è evidente e l'impatto sociale direi che è notevole oltre che estetico l'informatica poi potrebbe essere di supporto all'iniziativa sicuramente sì direi che alcuni esempi poi che vi mostrerò fanno subito capire che anche un supporto informatico può promuovere l'iniziativa e renderla anche potenzialmente economicamente vantaggiosa si potrebbe ad esempio realizzare un web service utilizzabile poi da siti e da app che fornisca per ciascun armadio così abbellito diverse informazioni la sua localizzazione dove si trova e quindi anche funzionalità di navigazione per raggiungerlo una preview dell'opera informazioni sull'autore e sul significato dell'opera stessa indicazione del promoter con eventuali breve spot pubblicitario in questo modo si potrebbe infatti contare su un appoggio economico di ditte in cambio di una pubblicità che non sarebbe comunque particolarmente invasiva in quanto raggiungibile solamente tramite lo spot pubblicitario predisposto dall'app un'interfaccia utente che utilizzasse poi la realtà aumentata o addirittura virtuale sia per individuarne la presenza nelle vicinanze quindi spostando il cellulare e mostrare dove si trova l'armadio abbellito più vicino o la direzione nel quale muoversi per raggiungerla o mostrare anche informazioni associate come ho visto precedentemente sia per raggiungere anche contenuto all'opera ad esempio darle movimento far apparire nuovi dettagli dell'opera stessa e tutto questo potrebbe ovviamente rendere ancora più appetibile una loro ricerca per un turista o fotografo e abbiamo visto infatti che questa forma di turismo legato alla street art è in continua crescita anche questa idea di utilizzare l'informatica non è completamente nuova esistono già delle app che in parte realizzano almeno parte delle funzionalità che ho prima descritto un esempio è l'iniziativa Be Part The Public Imagination Moment che è una start up innovativa che appunto ha realizzato inizialmente a Milano ma poi anche in altre città delle un'associazione fra realtà aumentuata e street art quindi il suo obiettivo è quello di riempire la città di arte design, video, suoni e parole attraverso una realtà aumentata che permette a chiunque di creare e installare contenuti o semplicemente fruirli negli spazi urbani attraverso il proprio smart device lo smartphone da visitare il loro sito e anche quello facebook del MAUA il museo di arte urbana aumentata che propone appunto in alcune città anche dei corsi gratuiti grazie a sponsorizzazioni sono venuto a sapere che proprio in questi giorni ce n'è stato uno a Torino alla toolbox sulla pagina che descrive il progetto si legge che questo museo è una galleria a cielo aperto fuori dal centro di Milano che costa di 50 opere di street art che si animano con contenuti virtuali fruibili attraverso la realtà aumentata queste opere sono nate grazie a un bando alle periferie finanziato da Comune di Milano e la scelta delle opere poi realizzate è stata è stato coinvolto proprio la popolazione quindi gli abitanti dei quartieri sono stati sono stati resi partecipi nella scelta dell'opera da realizzare e anche nella discussione comune sul loro significato nel seguito vi mostrerò alcune immagini e anche un video che mostra come la realtà aumentata possa dare nuova vita ad opere di street art e murali e come possa essere stessa essere un'opera d'arte anche autonoma in modo autonomo usufruibile semplicemente collocando quindi un cartello con i riferimenti all'opera da visualizzare virtualmente vi mostrerò appunto un esempio di tentacoli virtuali che fuoriescono dal fiume Po oppure da una finestra ecco qui in basso c'è il cartello che abitualmente viene collocato vicino al murale dove si intende far visualizzare l'opera virtuale e questo è quello che si trova ad esempio a Torino nei pressi del Teatro Colosseo dove esiste una di queste opere e che invita appunto a installare l'app apposita per visualizzare appunto le estensioni in realtà aumentata relative all'opera artistica presente inoltre proprio a Torino in questi ultimi weekend c'è stato un workshop gratuito finalizzato alla formazione di designer animation designer in realtà aumentata condotto dai designer dell'animazione digitale di Bipart in collaborazione con diversi altri enti dalla pagina del sito di Bipart relativo a quell'iniziativa si apprende che sono state utilizzate 40 opere di street art distribuite sui diversi quartieri di Torino selezionata dagli stessi abitanti del quartiere quindi c'è stato anche un coinvolgimento del territorio le animazioni in realtà aumentata faranno parte di un'edizione torinese del museo di arte urbana aumentata e queste foto sono state elaborate digitalmente animate trasformate in opere d'arte digitali in realtà aumentata e quelle migliori faranno parte di una mostra itinerante quindi continuano anche a Torino delle iniziative a cura di Bipart queste iniziative sono sostenute da Aperto azioni per le periferie torinesi sono finanziate dalla città di Torino e dalla presidenza del consiglio dei ministri quindi da questo si deduce che piccoli finanziamenti da parte anche delle amministrazioni sono ancora possibili anche in questo periodo di crisi economica per realizzazioni che sappiano dare dei risultati concreti nell'ambito della sostenibilità e dell'arredo urbano nonostante l'eventuale pubblicità associata potrebbe comunque essere una operazione non a costo zero ma sicuramente non a costi elevati e sicuramente efficace a livello di immagine per chiunque la realizzasse poi mi chiedo quanti soldi vengono travolta spesi in pubblicità per iniziative non solo non edificanti utili socialmente per il territorio ma che sono di dubbio ritorno economico come d'altra parte anche questa però diciamo dei presupposti ci sono come abbiamo visto perché un fornitore di servizi dovrebbe favorire un'iniziativa di questo tipo ecco questa è una seconda domanda che mi sono posto favorirla anche solo mettendo a disposizione gratuitamente gli armadi perché possano essere abbelliti perché sono di proprietà quindi ci deve essere un consenso ecco anche se non necessariamente una sponsorizzazione ecco un fornitore di servizi che favorisse un'iniziativa in oggetto potrebbe sicuramente avere dei vantaggi a livello di immagine sulla propria clientela e sulla popolazione in generale potrebbe come abbiamo visto pubblicità sui media come lo è stato nel caso dell'iniziativa milanese del 2015 poi potrebbero nascere delle collaborazioni ulteriori con i contatti con le realtà artistiche del territorio e i vantaggi potrebbero essere tra i più disparati nuovi clienti ulteriori sinergie è vero che talvolta qualche editta ha cercato di trarre profitto vendendo lo spazio disponibile sull'armadio di sua proprietà per la fissione di pubblicità ma mi sembra che i risultati non siano particolarmente esaltanti comunque c'è da dire che avere un cartellone pubblicitario su un armadio pur non essendo il massimo è sempre meglio di avere una struttura grigio topo veramente poco edificante e poi quella pubblicità avrebbe comunque magari trovato spazio e una sua collocazione altrove magari su un pannello collocato appositamente a tale scopo come questi totem che potete vedere a lato che comunque occupano anche loro uno spazio su un territorio già occupato da altre strutture ecco poi dal punto di vista dell'azienda sfruttare meglio questa potenzialità potrebbe essere un vantaggio economico ecco questa quindi comunque la vendita di spazio pubblicitario su armadi direi che è un qualche cosa che può continuare essere una proposta che può continuare a valere pur rendendo altri armadi abbelliti con forme artistiche diciamo le due iniziative non sono in alternativa necessariamente anche Tim vende spazio pubblicitario presso i suoi armadi ma ben pochi lo sanno io sinceramente non lo sapevo quasi ecco personalmente ho visto perlomeno parlo di Torino pochissimi armadi team con affisso manifesto e che sfruttano quindi questa potenzialità anche perché gli armadi effettivamente non sono forse il luogo più appropriato più visibile in generale dove fare pubblicità quindi magari le ditte preferiscono optare per altre soluzioni e comunque non mi serve che quell'iniziativa sia adeguatamente pubblicizzata in genere dove fanno pubblicità c'è un cartello temporaneo sul pannello dove si dice che lo spazio è disponibile per fare pubblicità ecco io ho trovato solamente una piccola scritta ecco qua l'ho fotografata nell'immagine in basso a destra dove c'è un numero telefonico da contattare per l'acquisto dello spazio proprietario su quell'armadio ecco veramente poco visibile e che serve veramente poco ecco poi c'è stata la discussione che si è tratta anche per più di un'ora rispetto alle aspettative e vi invito infine a fare questa breve indagine cliccando su questo questo link che può essere anche trovato tramite questo QR code si tratta di un'indagine a cui non è necessario rispondere a tutte le domande che si può fare in modo anche completamente anonimo se uno lo desidera i suoi risultati potranno essere sicuramente utili per sapere come tu che hai partecipato all'evento e anche altre persone che sono venute a sapere di questa iniziativa e che vogliono comunque contribuire possono contribuire a dare una concretezza a queste ipotesi tracciate grazie mille grazie mille